Finalmente a Palmi ieri è sbocciata la nuova giunta Ranuccio. Il nuovo esecutivo è stato presentato dal primo cittadino con un comunicato e una conferenza stampa ufficiale. Abbiamo formato una squadra, ha detto il sindaco, che ritengo estremamente qualitativa. Ha parlato di un mix tra innovazione e continuità che serve per portare avanti i tanti progetti in corso. La presidenza del Consiglio Comunale sarà affidata, almeno secondo previsioni, a Francesco Cardone. Cinque erano i posti a disposizione per gli assessori. Hanno visto la riconferma di Alessandro Riotto per la delega ai lavori pubblici e al territorio e alla Smart City. Promosso assessore l'ex consigliere Giuseppe Magazzù, che manterrà, come nella precedente consigliatura, la delega allo sport, allo spettacolo e alla rigenerazione urbana. Stessa cosa per il nuovo assessore Denise Iacovo, a cui vengono affidate le deleghe ai servizi sociali, al welfare e alle pari opportunità e all'associazionismo. Conferma anche per Salvatore Celi. L'ex presidente del Consiglio Comunale ha assunto le cariche di assessore al bilancio e tributi alle politiche giovanili e ancora alle politiche europee. Un nuovo ingresso in giunta si registra per Solidea Schipilliti, che riceve l'incarico di vicesindaco con le deleghe all'istruzione e all'educazione civica. Tra gli ex assessori non riconfermati, a Palmi Ricordiano, Elana Ciappina, Vladimiro Maisano e l'ex vicesindaco Sina Bruno. Tutte le altre deleghe sono rimaste nelle mani del sindaco, tra cui ricordiamo la cultura, la sanità, la protezione civile e la polizia locale.